Ebbene, c'è una storia analoga che è stata presa, non so se dalla fantasia degli autori ce lo diranno loro, e oggi è in libreria, il titolo del libro è Morte come me, eccolo qua la copertina, noi abbiamo in studio i due autori, Rita Monaldi, la vostra è una ragazza caduta dalla scogliera, è così? Sì, è l'unica cosa certa che sappiamo di questo caso, è che in mancanza di tracce, nell'anno in cui avvenne, 1935, perché è una storia vera? Certo, siamo sull'isola di Capri, il 27 maggio 1935, viene trovata in mare da un barcaiolo sotto la scogliera di Orrico, la giovane Pamela Reynolds, inglese, figlia di una famiglia molto potente, anche se non conosciuta. Ma che aveva un grosso potere, diciamo, dietro le quinte. La ricostruzione appare dubbia fin da subito. La sorella Ermione, erano tre sorelle, Diana, Ermione e Pamela. La sorella Ermione dice che Pamela era sola, poi dice no, eravamo insieme, eravamo uscite a fare una passeggiata, è inciampata, è caduta, no, veramente soffriva di depressione, si è uccisa. Fatto sta che la scogliera di Orrico non è una scogliera che cade a picco sul mare, ma discende gradatamente. Pamela avrebbe dovuto sfracere... Adesso se ci racconta tutta la storia, non voglio dire, togliamo la Sfaspens. Pruveggiamo il coautore Francesco Sorti, ma il giallo resta o poi piano piano si risolve nell'ultima pagina del libro com'è? Ma stasera a quarto grado avete trovato una formula, una espressione molto efficace, uno paga per tutti. Noi abbiamo investigato questa storia del 35, ovviamente dopo tutti questi anni è difficile inchiodare un colpevole a un processo, perché ormai sono quasi tutti morti o tutti morti. Quello che a noi interessava spiegare con questo romanzo, che però si basa su fatti veri, è proprio un po' quello che avete detto voi stasera, uno paga per tutti, e cioè questi suicidi apparenti, il caso David Rossi, altri casi, pensiamo al famoso caso Pinelli, ce ne sono tantissimi, questi suicidi apparenti che quasi sempre suicidi non sono, come nascono, perché nascono? Dalla nostra storia noi abbiamo appreso questa lezione, cioè che questi finti suicidi o suicidi che quasi sicuramente non sono tali, nascono quando esiste una vittima sacrificale, cioè nascono in un ambiente... Preordinata, una vittima che deve sistemare... Ci sono dei poteri, più delle volte ignoti, coperti, occulti, in contasto tra di loro, una persona si trova in mezzo a questo crocevia e fatalmente può fare una brutta fine.